La coppia Archbold-Kennett ha superato anche il quarto giorno di gare mantenendo la testa della graduatoria generale della 6 giorni delle rose in corso di svolgimento al velodromo Pavesi di Fiorenzuola. Ieri sera nel corso dell'unica gara che assegnava punteggi alle coppie in classifica, l'americana da 100 giri, i due pistard neozelandesi hanno conquistato il terzo posto ma soprattutto hanno risposto colpo su colpo ai tentativi di sorpasso degli avversari. Ora i due battistrada guidano con 88 punti. È stata una domenica di grandissimo spettacolo al velodromo Pavesi che ha visto la partenza dell'omnium uomini con i due super favoriti Edward Clancy, due ori olimpici in carriera e Aaron Gate, campioni ridati in carica, che non hanno tradito le aspettative della vigilia. Proprio il campione olimpico è stato il vincitore del giro lanciato mentre il secondo si è preso la rivincita nella corsa a punti sulla distanza dei 75 giri. Nella terza prova dell'omnium l'eliminazione è lo svizzero Suter a superare proprio Gate e il danese Von Fosak. Nel Keirin, gara durante la quale una moto fa da lepre, è stato il cecco Pnatnik a beffare allo sprint Francesco Ceci e il russo Savinsky. Questa sera si riprende alle 19 con le coppie della 6 giorni che saranno impegnate nell'ultima gara della serata, la serie di sprint sui 50 giri. Questa è una prova dell'omnium per uomini elite. Grazie.